Oh, buonasera a tutti e rieccoci ancora una volta su Cannotv, torniamo oggi a parlare di cinema, parliamo di film che potreste trovare in sala in questi giorni se interessati e parliamo di un film che si chiama La stranezza di Roberto Andò, con Tony Servillo, Ficarra e Picone. Ora, io dedico questo video a Mario Lombardo, che saluto, ciao Mario, lui mi ha spinto ad andare al cinema a vedere questo film e ha fatto bene perché effettivamente è un film molto carino che merita per certi versi di essere visto in sala poiché è un film che parla di teatro, è un film che racconta l'amore per il teatro e il ruolo importantissimo del teatro nel raccontare una storia e se vogliamo la sala cinematografica è la cosa più vicina che esista alla sala teatrale, quindi c'è un legame piuttosto evidente diciamo tra queste due cose e andare a vedere il film al cinema è un'esperienza assolutamente positiva, nonostante visivamente a livello registico è un film che secondo me non perderà se poi guardato in televisione oppure sullo schermo di un computer poiché effettivamente a livello visivo non serve la sala cinematografica per apprezzarlo, è un film che si può tranquillamente apprezzare anche su piccolo schermo a mio avviso. Merita comunque di essere visto al cinema poiché è un esperimento pieno di dignità da parte di Roberto Andò ed è un film che ricalca perfettamente la nostra tradizione non solo cinematografica ma anche teatrale e più in generale appunto narrativa ovvero quella di accostare a tematiche che raggiungono una certa drammaticità la commedia, il potere appunto della commedia rappresentata idealmente da due attori che secondo me qui vengono quasi nobilitati ecco dalla sceneggiatura e dalla regia di Roberto Andò nonostante comunque ficare piccone hanno sempre avuto una una comicità comunque assolutamente meritevole anche in altri film magari meno di di minor spessore rispetto a questi. Dunque io non arrivo naturalmente puntuale a parlarvi di questo film sono già tante le opinioni che potete trovare su youtube e vi segnalo quella del diario della notte che è un bellissimo canale youtube che parla di cinema spesso e volentieri abbraccia anche altre tematiche lui ha fatto delle secondo me bellissime considerazioni condivisibilissime non solo sul film ma anche sull'aimè preoccupante triste stato in cui versano le sale cinematografiche sempre meno gente va al cinema le sale cinematografiche sono ahimè sempre più vuote io effettivamente questa settimana sono andato al cinema tre volte a vedere film fra loro anche molto diversi e in tutte e tre le occasioni di gente in sala ce n'era veramente poca ma non solo nelle sale in cui io sono andato ma anche proprio al cinema sono andato in dei multisala ci erano anche altri spettacoli naturalmente negli orari in cui mi sono recato io e le presenze proprio al cinema cioè le persone al cinema erano poche e questo è veramente preoccupante prima della pandemia pandemia prima della pandemia di gente al cinema ce n'era di più io mi ricordo che di gente in sala ce n'era di più non erano piene neanche lì le sale cinematografiche però comunque io credo che la pandemia abbia dato una grande botta purtroppo al cinema e questo appunto è molto triste nonostante oggi naturalmente ci siano dei delle fruizioni diverse alternative alla sala cinematografica a tal proposito io vi consiglierei se se interessati naturalmente se non l'avete vista una bellissima chiacchierata secondo me molto carina chiacchierata che che ho eseguito sul canale di michele di p quod fumetti e mondi possibili sono sono stato invitato insomma a discutere circa i i modi metodi no di di fruizione oggi come oggi tra appunto sale cinematografiche streaming piattaforme online a pagamento insomma una una chiacchierata secondo me anche molto attuale ora parlando naturalmente incentrandoci sul film ecco è un film secondo me molto molto carino che si presta a più interpretazioni è ambientato nella sicilia degli anni venti nel paese natale di luigi pirandello e seguiamo proprio le vicende di pirandello che interpretato appunto da da toni servillo che si reca nuovamente nel suo paese natale per incontrare l'amico giovanni verga peraltro interpretato da renato carpentieri che grandissimo attore di teatro ancora prima che di cinema renato carpentieri era quello di porte aperte assieme a quel meraviglioso interprete gigantesco insuperabile gian maria volontè insomma che ve lo dico a fare che ve lo dico a fare per citare donny brasco però insomma mitico gian maria volontè e c'è un bellissimo scambio in questo film di battute tra appunto pirandello e e verga che appare soltanto in una scena ma è sufficiente per mostrarci lo spessore del personaggio e la caratura naturalmente dell'attore che lo interpreta noi spettatori assistiamo a questo velocissimo ma bellissimo scambio di battute tra due grandissimi interpreti ovvero renato carpentieri appunto e toni servillo toni servillo che qui è molto più misurato rispetto al solito mette da parte molto del suo istrionismo attuando una recitazione quasi per sottrazione interpretando questo pirandello tormentato dai fantasmi dei suoi personaggi c'è questa bellissima sequenza iniziale in cui vediamo lui no che in treno appunto si sta recando in questo in questo paese e in una sequenza molto suggestiva anche piuttosto inquietante in alcune sfumature lui ha nella nella carrozza insomma in cui è seduti davanti a loro tutti questi questi volti di personaggi che gli sorridono in maniera molto ambigua e poi scopriamo che in realtà questi personaggi non sono reali sono appunto i suoi no personaggi che lui si è immaginato i suoi fantasmi che si legano anche come vedremo nel corso della pellicola con fantasmi di persone che sono vissute forse realmente ciò che hanno circondato realmente la sua vita lui arrivato in questo paese scopre che la sua balia la balia che appunto lo assisteva diciamo no quando era piccolo è morta è venuta mancare e così fa la conoscenza dei due becchini del paese ovvero ficare piccone appunto scusate mi è arrivata una telefonata dicevo e pirandello fa la conoscenza quindi dovendosi per forza di cose trattenere qualche giorno in più in questo paese perché gli aspetti burocratici sono lenti e al cimitero non ci sono proprio posti fisici no per seppellire la sua balia fa la conoscenza di questi due becchini del posto interpretati da ficarra e piccone che gestiscono una compagnia filodrammatica e starebbero in qualche modo scrivendo un dramma che però sta uscendo nella maniera totalmente opposta rispetto a come loro vorrebbero concepirlo e più una commedia peraltro in questa opera che loro appunto stanno organizzando con passione con impegno come dice piccone siamo principianti professionisti ecco come dice nel corso nel corso nel corso del film sono in qualche modo contenute tutte quante le dinamiche sociali possiamo così dire di questo paesino siculo che ruotano attorno a questi due becchini no perché uno ha una situazione particolarmente infelice con con la moglie e forse ha una una storia con con qualcun'altra e l'altro ha un escapolo e passa il tempo con con le prostitute del bordello locale e ha un una sorella che controlla ossessivamente che controlla gelosamente e insomma tutte quante queste 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 dinamiche sociali in qualche modo si si fondono cioè la realtà si fonde con la finzione di quest'opera teatrale che loro stanno che loro stanno appunto costruendo ecco che loro stanno organizzando e pirandello che è appunto costretto a fermarsi più del dovuto in questo paesino inizia ad osservarli da lontano però non li osserva da vicino cioè il film a un certo punto non unisce i due caratteri cioè i due becchini con pirandello c'è c'è naturalmente un incontro ci sono degli scambi anche molto molto interessanti come ad esempio il primo incontro tra appunto pirandello e questi due becchini loro pur avendo appunto la passione per il per il teatro per la filodrammatica eccetera eccetera non riconoscono pirandello poiché non l'hanno mai visto in fotografia e quindi gli chiedono che che lavoro faccia pirandello gli risponde che è un è un insegnante di scrittura insomma di letteratura e loro gli rispondono noi la noi la scrittura la facciamo no gli rispondono qualcosa del genere quindi è un inizio molto interessante diciamo tra tra i due caratteri e nonostante appunto vi sia questa questo questo legame no si crei appunto questo rapporto ecco tra tra loro i personaggi non si uniscono mai completamente con pirandello che osserva da lontano con con grande curiosità l'organizzare questa recita e assisterà anche alla alla prima di paese no di quest'opera che insomma finirà a schifio per usare un termine siciliano poiché insomma ne succederanno di tutti i colori nella rappresentazione di di quest'opera e ancora una volta la finzione della recita andrà in qualche modo a scontrarsi a mescolarsi con la realtà con le dinamiche reali che in qualche maniera in interferiscono con appunto la la recita qualcuno addirittura si sentirà tirato in ballo ecco si sentirà preso in considerazione dalle storie che vengono raccontate nella finzione ma che possono forse avere anche un peso appunto nella realtà di di chi guarda quest'opera di chi osserva questa questa esposizione teatrale e tutto ciò creerà in scaturirà insomma in in pirandello e tutto il processo creativo che poi lo condurrà nella finzione naturalmente del film io credo che il film peschi da 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 tematiche reali a cui poi aggiunga una componente fittizia naturalmente quindi è una rielaborazione no di alcuni aspetti di alcuni frangenti della vita della carriera delle opere della concezione artistica delle opere di pirandello dicevo la visione di di questa curiosa conseguenza che capita durante appunto questa questa questo spettacolo teatrale questa recita teatrale farà scaturire ecco in pirandello l'ispirazione per quella che poi diventerà sei personaggi in cerca d'autore che come peraltro viene mostrato nel film riceverà delle 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 critiche tutt'altro che positive cioè delle delle impressioni ecco scaturirà appunto delle impressioni tutt'altro che positive lui a questa prima a roma in questo importantissimo teatro naturalmente molto meno sgangherato di quello di 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 questi due becchini in questo paese sicuro in questo paesino sicuro inviterà anche i due i due becchini che poi trovandosi in mezzo al pubblico penseranno di trovarsi in mezzo ai personaggi del dell'opera teatrale che viene messa in in scena e a cui partecipano partecipano anche dei 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 volti conosciuti per esempio c'è luigi locascio ci ci sono anche altri attori molto interessanti nel film c'è donatella finocchiaro c'è galatea ranzi insomma c'è un cast comunque assolutamente pregevole ma durante la diciamo la visione ecco di 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 questo spettacolo noi assisteremo al alla confusione no di questi due becchini che a un certo punto si riconosceranno come personaggi facenti parte dell'opera e quindi loro sono reali la domanda che naturalmente noi ci poniamo ecco durante durante il film oppure sono parto dell'immaginazione di pirandello che per tutta la durata del film è assillato visitato come appunto il prologo no in in treno dai personaggi delle sue opere cioè i personaggi delle sue opere che durante questa crisi creativa mettiamola così che attanaglia lo scrittore durante appunto questo periodo che viene descritto nel film gli vanno a chiedere spiegazioni ecco quindi appunto personaggi in cerca d'autore no ed è un un una riflessione molto efficace secondo me sul sul confine molto molto labile tra appunto la realtà e la finzione c'è un passaggio tra il teatro quello che racconta il teatro e quello che ispira il teatro quello che quello che racconta il teatro e chi percepisce anche il il mezzo teatrale e secondo me la regia è adattissima a questa storia poiché andò dirige il film in maniera effettivamente molto teatrale lasciando spazio in in fase di sceneggiatura anche a a delle vere e proprie recite teatrali no che Ficarra e Piccone fanno peraltro utilizzando il dialetto siculo anche piuttosto stretto infatti ci sono dei sottotitoli e cioè la presenza di Ficarra e Piccone è meno popolaresca mettiamola così del solito poiché appunto vengono in qualche modo nobilitati viene data loro la possibilità da da parte del regista appunto di cimentarsi con le proprie radici da cui è scaturita la loro comicità che per ovvie motivazioni per abbracciare anche un un fronte più 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 popolare ecco si è dovuta diciamo modificare un po e invece qui Ficarra e Piccone secondo me risultano quasi più attori che caratteri comici che che maschere comiche anche se naturalmente già solo per il fatto di essere siciliani qualcuno li può mettere in relazione a Franco e Ciccio no e non sarebbe neanche sbagliato secondo me poiché io Ficarra e Piccone pur non impazzendo insomma per le loro figure li trovo un una bellissima eredità comica per la Sicilia eh di rispetto appunto a ai miti eh comici siculi che che naturalmente ben conosciamo eh come schema il film in qualche punto per 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 qualche forse eh impostazione ecco di base naturalmente mi ha ricordato un po il postino con Massimo Troisi naturalmente anche se sono due film completamente opposti che vanno a riguardare tematiche completamente diverse e lo fanno in maniera totalmente differente però se vogliamo un po lo schema è il medesimo poiché c'è eh se se qui ci sono due becchini con la passione per il teatro nel postino naturalmente c'era un postino appunto con la passione per la poesia qui i due becchini conoscono eh Pirandello mentre invece nel postino eh eh Troisi incontra eh Neruda no? Naturalmente conosce Pablo Neruda interpretato dal mitico Filippo Noorre quindi se vogliamo grosso modo c'è un 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 piccolo soffuso richiamo anche perché appunto poi i film prendono eh direzioni completamente differenti però è un è un film estremamente dignitoso questo di Roberto Andò è un film anche molto molto elegante molto raffinato nella comicità che porta eh non ci sono volgarità e non ci sono cadute di stile c'è un ottimo un ottimo veramente un ottimo controllo degli attori e poteva essere una cosa eh effettivamente stramba quella di associare un un attore come Servillo a a due comici anche molto popolari no? Striscia una notizia insomma tante cose come Ficarre Picone e io stesso veramente non sapevo che che cosa potermi aspettare avevo forse delle aspettative piuttosto piuttosto basse eh temevo potesse rivelarsi un film veramente eh trascurabile e invece no e invece il regista è stato veramente molto bravo a relazionare tra loro questi 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 due fronti totalmente opposti e e a controllare veramente gli gli attori secondo me sarà un un titolo che peserà in positivo nella filmografia di Ficarre Picone probabilmente è la loro migliore interpretazione il film più eh più alto in tutti i sensi a cui abbiano preso parte e ed è un film che assolutamente non sfigura minimamente nella filmografia di Tony Servillo che peraltro recentemente so aver interpretato Edoardo Scarpetta il grande attore da cui poi eh insomma hanno tratto ispirazioni i fratelli de Filippo Nino Taranto e tanti tanti altri naturalmente Totò insomma tanti altri della nostra del nostro teatro della nostra rivista Aldo Fabrizi e del nostro eh cinema naturalmente film che però io non ho non ho visto quindi Servillo diciamo che eh ha proseguito su questa scia in in questo film che appunto eh secondo me merita di essere visto merita di essere visto al cinema in sala eh oltre che per quella somiglianza come dicevo prima tra la sala cinematografica e la sala teatrale merita secondo me di essere visto anche eh per l'idea di una Sicilia meno macchiettistica forse rispetto al solito una una Sicilia anche perfettamente ricreata a mio avviso in dai costumi e dalle scenografie dalla dalla fotografia bella solare in alcuni punti ma eh piuttosto eh piuttosto cupa misteriosa in altri e in effetti è un film che parla eh anche di di morte se vogliamo cioè Servillo che deve in qualche modo trattenersi in questo paese per per via di questo funerale quindi c'è c'è questa figura no di di morte di morta eh anche perché i due ficare piccone fanno dei becchini naturalmente eh ci sono delle sequenze in cui eh ci viene spiegato appunto che eh il cimitero non ha sufficienti posti e quindi ci sono tutti questi morti tutte queste casse questi morti appunto che aspettano di avere sepoltura e poi ci sono i fantasmi i fantasmi naturalmente che assediano eh Pirandello quindi è un film eh che in qualche maniera tratta il tema della morte cioè la morte come come personaggio aleggia continuamente no lungo tutte le sfumature del film e ed è reso tutto in maniera molto molto intelligente molto molto ben dosata ecco forse io avrei gradito che si andasse un po' più a fondo nella figura di Pirandello anche perché non ho una grande preparazione su 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 questo autore su questo grandissimo autore naturalmente ehm italiano e però mi rendo conto che il film non sia incentrato sulla figura di Pirandello che che di fatto è marginale poiché i veri protagonisti sono ficare piccone forse reali forse no non lo so eh questo e questo è il senso del film secondo me ognuno ci può trovare eh varie varie interpretazioni però è un film che mi verrebbe da dire eh si comprende meglio di visione in visione ecco eh però insomma sono sono contento di averlo visto ringrazio Mario per il per il consiglio molto molto bello vi consiglio anche a voi di andare a vedere in sala questo film eh se non altro per solito discorso incoraggiare il cinema italiano e che che quando propone queste 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 opere va assolutamente appoggiato perché sono film pieni di di dignità artistica in tutti i sensi a livello attoriale a livello registico a livello di maestranze varie ottimi costumi ottime scenografie ottima fotografia un un film che vuole raccontare qualcosa che cerca di restituire a generazioni che che forse non l'hanno neanche mai conosciuto il fascino del del teatro io vi ringrazio per l'ascolto di questo video se avete visto questo film fatemi sapere che cosa ne pensate io vi ringrazio per l'ascolto e ci rivediamo a voi piacendo al prossimo video ciao a tutti